Benvenuti a tutti. Prima di iniziare, vi ricordo di cliccare sul pulsante di iscrizione e attivate le notifiche per rimanere sempre informati sulle ultime notizie. Un vostro mi piace sarebbe molto apprezzato. Grazie. Oggi siamo qui per parlare di una notizia che ha colpito l'intero panorama letterario italiano. Una delle scrittrici più conosciute e amate, nota per i suoi contributi nel genere dei romanzi gialli, è scomparsa improvvisamente, come riportato da tutti i principali giornali nazionali. Questo testimonia l'enorme influenza e importanza di questa autrice nel mondo letterario. Parliamo di Danila Comastri Montanari, un nome che rimarrà per sempre inciso nella storia della letteratura. Amata dal pubblico e acclamata per i suoi romanzi gialli, Danila era conosciuta per i suoi racconti storici e per essere stata la fondatrice del gruppo 13. Ha saputo affascinare un vasto pubblico di lettori che aspettavano con ansia la pubblicazione di ogni suo nuovo lavoro. Nata il 4 novembre 1948 a Bologna, Danila ha iniziato la sua carriera letteraria nel 1990, all'età di 42 anni, con il suo primo romanzo Mors Tua. Successivamente, ha scritto una serie di 19 libri con protagonista Publio Aurelio Stazio, nobile senatore della Roma di Claudio. Questi romanzi hanno catturato l'immaginazione di innumerevoli lettori grazie al suo approccio alla scrittura, semplice, diretto, ma altamente efficace. Danila era una profonda conoscitrice della storia, sia antica che moderna, e aveva il talento unico di trasportare i lettori all'interno delle epoche storiche che descriveva nei suoi libri. Le sue descrizioni dettagliate e vivide davano vita ai personaggi e alle ambientazioni, rendendo la lettura un'esperienza affascinante ed educativa. Venerdì 28 luglio, Danila Comastri Montanari si è spenta a Bologna all'età di 74 anni. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato sulla sua pagina Facebook ufficiale. Oggi la camera ardente è stata aperta presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna dalle 10 alle 11. La perdita di Danila rappresenta un colpo significativo per il settore del giallo storico e per la letteratura italiana in generale. La sua passione per la storia e la sua abilità narrativa hanno lasciato un segno indelebile in molti lettori. Prima di concludere, mi piacerebbe invitarvi a condividere i vostri pensieri su questa notizia tragica. Cosa ne pensate della perdita di questa grande autrice? Quali sono i vostri ricordi legati ai suoi libri? Vi prego, lasciate un commento qui sotto per farci sapere le vostre opinioni. Grazie per aver dedicato del tempo a questo video. Continuiamo a ricordare e a celebrare l'incredibile contributo di Danila Comastri Montanari alla letteratura. A presto.